partite ragazzi partita anche questa diretta bonus facciate 90 per cento e la famosa conformità urbanistica eccoci qua mettiamoci con nuova angolazione ragazzi allora ancora qualche secondo se mi date qualche feedback che l'audio video è tutto a posto così cominciamo perché c'è un po di cosettine da analizzare insieme allora nell'attesa di nuovo approfitto qua c'è un libro di andrea di leo avvocato amico e riguarda gli abusi edilizi sanatorie regolarizzazione e tolleranze legislazione tecnica ok l'ho trovato ovviamente su amazon argomento di oggi argomento di oggi è appunto la questione della conformità urbanistica relativa al bonus facciate perché finora abbiamo parlato del bonus relativo a super bonus in generale ecobonus sisma bonus ora andiamo a guardare il tema del bonus facciate 50 per cento in sostanza facciamo questa domanda e diamo su una risposta cioè occorre verificare lo stato legittimo di conformità immobiliare nel bonus facciate 90 per cento oppure no la domandona è una domandona per cui appunto bisogna guardare un pochettino di norme un po di leggi e capire come orientarsi e soprattutto il tecnico geometra architetto ingegnere cosa deve fare come devo orientarsi e cosa deve rispondere ai clienti che gli chiedano ma fino a che punto ci dobbiamo spingere a quali verifiche dobbiamo fare nei video precedenti ve li metterò in descrizione appunto abbiamo analizzato insieme il tema dello stato legittimo e della verifica di conformità da fare nel ramo super bonus anche senza super bonus già molti mesi fa avevo fatto un video sullo stato legittimo cioè questa nuova definizione di verifiche obbligatorie che il legislatore ha messo nel testo unico grazie al decreto semplificazioni questo è un po il punto di partenza di tutto ed è quello che ci accompagnerà oggi in tutta questa questa diretta a cui risponderemo alla domanda dobbiamo farlo sì o no e se dobbiamo farlo cosa dobbiamo fare quale sono le verifiche che dobbiamo analizzare se dobbiamo fare il famoso bonus facciate oppure no quello lo ripeto al 90 per cento vedo che state crescendo molto come accessi simultanei mi fa piacere direi che siamo già parecchi se questo video lo vedete in diretta ok possiamo interagire in tempo reale oppure comunque approfitto questi sono i miei riferimenti telegram social facebook linkedin instagram mi trovate senza alcun problema il mio blog www studiotecnico pagliai.it dove ovviamente ci sono tutti i miei corsi di formazione online dove ci sono tutti i miei articoli ok dai ragazzi siamo tanti e è il momento di passare a introdurre l'argomento di oggi allora bonus facciate non lo sto a riaffrontare è già noto c'è proprio la norma di riferimento vi consiglio di andare a leggere la non la ritiriamo fuori però è appunto quella possibilità di detrazione di certe spese relative a interventi ben specifici cioè alle facciate principali poi si sta aprendo la questione facciate laterali si facciate laterali no a seconda delle varie condizioni interventi intonaci in certo modo si eccetera ma non sono queste le novità che voglio trattare c'è già stata molta molto dibattimento piuttosto è soprattutto noi tecnici dobbiamo non dobbiamo fare la verifica dello stato legittimo dell'immobile quando io faccio il bonus facciate e se la devo fare fino a che punto mi devo spingere la risposta la troviamo qua no sì eccola la slide appunto ci sono delle norme di riferimento a cui dobbiamo guardare e fare molta attenzione appunto la legge 160 2019 se andiamo a vedere non ci dà alcun riferimento dello stato legittimo come invece ce l'ha data è stata introdotta in parte è stata un prodotto introdotta nel super bonus comma 13 terre articolo 119 decreto rilancio grazie al cosiddetto decreto agosto che ci si intreccia con i decreti e con le norme buonasera a tutti bene appunto nel super bonus è stata introdotta espressamente una versione parziale condominiale dello stato legittimo cioè è stata introdotta l'incezione conferma la regola in sostanza l'ho detto qualche video fa vi consiglio ad andare a vedere soprattutto anche quando si parla di demolizione ricostruzione ma stato legittimo condominiale nel superbonus c'è proprio un video vi consiglio lo dovete vedere perché probabilmente vi darà un sacco di risposte anche alle domande che probabilmente nascano ora allora la questione è lì nel superbonus quindi ramo ecobonus 110 ramo sisma bonus 110 è stato introdotto una particolare ipotesi e modalità di verifica dello stato legittimo non totale dell'edificio cioè guardando tutto dalle regole alle fondazioni di default in verità vi dico molti casi è comunque necessario fare una due diligence spinta veramente da cielo a terra su tutto perché non solo interventi trainanti ma se ci sono interventi trainati bisogna andare a coinvolgere le parti esclusive di conseguenza bisogna andare a fare le verifiche su tutte le proprietà anche all'interno però torna a dire lì bisogna vedere cosa succede nello specifico quindi superbonus a la sua norma come dire generale e poi anche lì va visto caso per caso cosa succede bonus facciate cosa succede le bonus facciate non c'è una norma che mi ma anche posteriore alla legge 160 2019 gli articoli sono 200 di 219 220 va memoria correggetemi se sbaglio lì non c'è un riferimento espresso allo stato legittimo perché perché lo stato legittimo è stato introdotto in quest'estate 2020 la scorsa estate 2020 decreto semplificazioni bene ora ce lo troviamo nel testo unico dove articolo 9 bis comma 1 bis che va letto in combinata lettura con l'articolo 34 bis quello sulle tolleranze anche sulle tolleranze edilizie vi consiglio di vedere in uno dei miei ultimi video dove ho fatto una prima carrellata molto sintetica da cui appunto abbiamo esaminato questi aspetti ora cosa facciamo sul bonus facciate facciamo una cosettina applichiamo il testo unico dopo il decreto semplificazione cosa ci dice è appunto articoli 9 bis comma 1 bis articoli 34 bis sulle tolleranze vanno letti insieme per cui ora vi da una sintetica lettura molto dire molto diretta cioè noi abbiamo una normativa che ci dice lo stato legittimo di conformità degli immobili intanto non è un optional prima cosa ma è un requisito essenziale per la validità dei titoli edilizie questo è un mio primo assunto un chiarimento che voglio dare assolutamente però c'è un altro aspetto che ce lo dà l'articolo 34 bis il comma 3 del testo unico che ci dice guardate che un tecnico abilitato e punto il dito a te lo vedete questo è per te geometri architetto ingegnere per me anche per noi tecnici che ci dice tu devi per le nuove istanze edilizie per le comunicazioni edilizie per le segnalazioni edilizie tu devi fare la verifica delle tolleranze riscontrando lo stato legittimo delle unità immobiliari si parla addirittura non tanto dell'edificio ma dell'unità immobiliare di fatto l'edificio me lo trovo nel suo insieme perché quando si fa il bonus facciate spesso per non dire sempre si interviene su parti comuni cioè si interviene su immobili che hanno regime condominiale quindi proprietà diverse parti comuni e sono quelle previste dal codice civile articoli 1117 dintorni ecco perché comunque sia la verifica delle tolleranze ce la dobbiamo fare ma perché perché ci obbliga questo articolo ma questo articolo di 34 bis mi chiede di fare una verifica delle tolleranze anche con lo stato legittimo comparandolo allo stato legittimo cioè è una reazione a catena mi chiede di verificare le tolleranze rispetto a cosa allo stato legittimo perfetto ti costringo a fare la verifica dello stato legittimo su cosa ecco ovviamente qui non si applica quell'articolo quel comma dell'articolo 119 abbiamo visto prima e che ve lo evidenzio col cursore in sostanza eccolo qua questo non si applica perché quello specifico per gli articoli 119 del decreto rilancio e allora sul bolo sfacciate che inventiamo di cosa si ragiona applico la normativa nazionale cioè io devo fare la verifica dello stato legittimo dell'immobile e delle a questo punto delle parti che sono oggetto di intervento o ma allora cosa significa che io devo fare la verifica solo sulle parti comuni faccio solo la facciata non mi pongo il problema se l'appartamento della signora marcella e terzo piano è stracolmo pieno di abusi è successo di tutto ecco questa posizione è sostenibile perché io faccio intervento è limitato alla facciata e magari faccio solo la facciata principale vele laterali si le faccio oppure le faccio forse rientra non detrazione forse no magari condominio vi ti dirà si fa gli interventi su tutte le facciate solo una van detrazione le altre si pagheranno ok però si applica allora la definizione le procedure nazionali che sono quelli abbiamo visto ora cioè devo fare la verifica dello stato legittimo delle parti io direi di fare interpretazione logica cioè delle parti che sono oggetto di intervento a e qui mi ritorna di nuovo dalla finestra il problema che avevo dove nella verifica delle parti comune dello stato legittimo parziale condominiale e c'è nell'articolo 119 decreto rilancio in sostanza se io sono il tecnico e devo fare il la pratica edilizia che sia una cila e che qui ve l'ho messe in casellate no e io debba fare una comunicazione edilizia una segnalazione e quindi le scia la comunicazione edilizia quali sono ma ovviamente sulle cila le istanze tutte permesse di costruire ma anche le istanze di sanatorie quindi in sostanza il legislatore non ha fatto discorsi ha preso tutti tito tutte le richieste tutte le procedure di titoli abilitativi edilizi comunicazione eccetera e le ha messe sullo stesso piano e ha detto guarda tutto tecnico abilitato sei tu che attesti e asseveri la conformità se tu che dichiari lo stato legittimo quindi poniti il problema ora nel testo unico non ci dice esattamente nella definizione dello stato legittimo a cosa fare riferimento sia l'intero edificio alle sole unità immobiliari ce lo dice quello sulle tolleranze nelle tolleranze la verifica delle tolleranze avviene relativa alle unità immobiliari e di conseguenza aggiungo io in un'interpretazione logica anche sull'edificio perché l'edificio non ci dimentichiamo è composto da dalla sommatoria delle unità immobiliari esclusive dalle parti comuni bene ho da fare il bonus facciate e allora fin dove mi devo fermare io tecnico dove mi devo fermare è devo coinvolgere le parti mi devo porre il problema di fare la verifica dello stato legittimo delle parti a comune oggetto di intervento quindi ipoteticamente se io intervengo solo su una facciata immagino sia la facciata principale mi porrò il problema della verifica dello stato legittimo di quella parte lì ora questo in linea teorica cioè suona facile a parole in verità andiamo avanti in verità se io ho da fare ecco interventi di questo tipo le facciate come vedete possano essere molto complesse di vario tipo lasciamo perde questa volutamente provocatoria ma facciate dei nostri tessuti insediativi possono presentare varie complessità modifiche di prospetto per esempio se un prospetto non torna il prospetto appunto è composto anche dall'apertura e l'apertura e fanno riferimento alle proprietà esclusive se prendo per esempio non è il nostro caso di questa di questa zona qui veneziana non so dove ma ipotizziamo per puro caso e questa porta finestra non risulti conforme alle prate edilizie di quell'appartamento perché magari quell'appartamento ha fatto che ne so una modifica chissà quando è ecco che purtroppo quando si interviene sulle parti comuni si fa la svelta a dover andare a verificare anche le proprietà esclusive perché perché sono a stretto contatto sempre quindi è facile dirsi faccio la verifica dello stato legittimo solo sulle proprietà esclusivi proprietà a comuni perché intervengo solo su queste sì facile davvero in verità si fa la svelta no è come prendere una come dire un anello di una catena e poi aver a che fare con tutta la catena e allora si pone appunto il problema che fare il bonus facciate su anche solo sulla facciata principale si mi chiede mi obbliga di fatto a verificare lo stato legittimo delle parti interessate dall'intervento ma di fatto il buon professionista diligente che si pone il problema di verificare in maniera corretta tutto per esempio si deve porre il problema se le forometrie tornano e sono legittimate altrimenti rischia di dare una rappresentazione diciamo falsata non congruente a titolo abilitativo e diventa un problema questo è una prima analisi ok oppure no non tornano ci sono i balconi che magari sono spostate sono diverse rispetto a titoli abilitativi poi verande porticati chiusi con vetrate anche scorrevoli non so verande proprio di ogni tipo chiusure parziali totale di alcuni alcune porzioni prospetto e bisogna porsi il problema perché qui ad esempio vediamo anche questa zona no come vedete prospetti possono essere molto complessi da questo punto di vista ecco perché siccome i prospetti sono per definizione una parte comune l'abbiamo detto negli altri video ecco che allora mi costringe anche a fare verifiche che sono diciamo collegate alla facciata con le parti esclusive cioè la finestra il balcone la veranda la bio pergola climatica come la vogliamo chiamare mille modi chiusure con vetrate scorrevoli di balconi porzioni eccetera anche ampliamenti anche a sbalzo perché si vede di tutto sulle facciate di oggi mi costringe appunto a pormi il problema di fare la verifica da questo punto di vista ora perché è importante ancora più importante la questione perché il decreto rilancio ha ammesso per anche tutto il 2021 la cessione del credito del bonus 90 per cento bonus facciate e allora bisogna appunto forse un pochettino il problema cioè sconsiglio ai tecnici di fare pratiche edilizie senza fare un'attenta verifica dello stato legittimo nel bonus facciate ora stiamo parlando solo di quello senza fare però le dovute verifiche da un punto di vista complessivo e di conseguenza se vado a toccare a interessarmi a interfacciarmi con facciate che hanno forometrie elementi e sono le proprietà esclusiva tipo balconi ecco che allora ahimè bisogna spingersi anche il fare una sorta di invasione di campo e andare a vedere gli atti permessi titoli abilitativi di quell'appartamento di quel balcone quindi di tutte le parti che sono esclusive sì ma che sono intersecate su quella comune ecco che il gioco non è che diventa proprio facile e ora mariano mi suggerisce se le forometrie sono congruenti con il titolo d'inizio si può evitare di controllare il distributivo interno può essere una giusta traccia che è condivisibile da questo punto di vista perché perché il bonus facciate è molto limitato appunto si limita a un intervento prevalentemente anzi diciamo senza prevalentemente puramente esterno e non mi va a coinvolgere le proprietà esclusive questo a meno che non si voglia in qualche modo contestualmente fare interventi sulle proprietà esclusive ecco lì è un altro discorso diciamo che il bonus facciate ci dà una una possibilità applicativa forse meno meno rigida di quella che invece si potrebbe o si dovrebbe applicare nel superbonus 110 perché ne abbiamo parlato in altri video appunto nelle verifiche delle per gli interventi trainante e coinvolgano solo le parti a comune bisogna capire dov'è questo confine perché il legislatore ci ha dato una possibilità ma non una certezza di limitare le verifiche solo sulle parti comuni non sempre può capitare così anzi c'è ve l'ho detto c'è il doppio scenario perché la norma è scritta in maniera questo comma 13 terre articolo 119 è scritto in maniera un po capziosa e si può facendo interpretazione letterale viene anche da pensare che c'è l'obbligo nel superbonus di fare la verifica dello stato legittimo di tutte le parti a comune ancorché non coinvolte dagli interventi 110 e allora il gioco si fa veramente duro quindi giorgio nel caso in cui i balconi non corrispondono agli elaborati grafici alla licenza che si fa ahimè c'è da far solo una cosa da fare regolarizzazione c'è da fare la procedura di sanatoria eccetera in base alle casistiche in cui si ricade una volta regolarizzata allora la facciata si presenta in una situazione di legittimità di stato legittimo e quindi si può partire fare l'intervento 110 o l'intervento bonus facciate 90 per cento ora mi si intrecciano tutti i vari bonus e tutte le varie aliquote allora direi se vi è piaciuto intanto il video mettiamo un like così capisco se il contenuto è stato di gradimento andiamo avanti a cerco di rispondere a qualche commento per esempio no la questione del cappotto non ne parliamo qui preferisco parlarne in altri video daniele ma se faccio il bonus facciate per una unifamiliare dove ovviamente non ci sono parti comuni dovrà verificare la conformità anche all'interno beh diciamo diciamo nel momento in cui l'unifamiliare è proprio il caso limite estremo non ci sono le parti a comune però ti rispondo con una domanda tu nella pratica edilizia che sarà quella che sarà cosa ci metti come come elaborati grafici no documentazione fotografica perfetto e nelle parti interne devo dare una verifica allora ti rispondo appunto con una domanda ma tu due anni fa facciamo finta lo stato legittimo non sia mai esistito cosa avresti fatto probabilmente avresti rappresentato solo l'aspetto grafico della facciata la forometria torna tornano prospetti tornano balconi tutto da fuori no a rappresentarlo e a vedere con i titoli edilizi ovviamente due anni fa non esisteva la definizione di stato legittimo però il buon senso e la buona diligenza professionale vogliono che comunque sia una verifica dell'immobile nel suo insieme diciamo edificio unifamiliare facciamola ma il cliente mi ha dato l'incarico solo per bonus facciate perfetto d'accordo però non ci dimentichiamo noi professionisti nella pratica edilizia siamo chiamati a dare la definizione dello stato legittimo dell'unità immobiliare coinvolta quindi momento in cui vado a trattare la villetta unifamiliare io personalmente forse mi sbaglio non lo so forse esagero io farò una verifica comunque su tutto il fabbricato e non sapendo leggere scrivere ma questo perché perché la verifica della facciata e qui ve la voglia rimettere per esempio no per esempio una facciata come questa mi costringe a fare un rilievo perché comunque sia lo vorrò fare un minimo di rilievo di questa facciata capire se le altezze sono state rispettate se si è allargato anche come larghezza nel suo insieme questo mi costringe a fare una serie di verifiche anche da un punto di vista urbanistico di sagoma se c'è vicoli per l'amor del cielo ecco non dobbiamo assolutamente sottovalutare anche gli aspetti vincolistici tanto per cominciare poi ci sono anche tutti gli aspetti delle norme regionali dei piani regolatori e regolamenti edilizi comunali quindi anche quello ripeto sempre fatto salvo le discipline locali e regionali e sempre fatto salvo le norme di settore quindi detto questo di nuovo per risponderti non è obbligatorio la norma espressamente non lo prevede cioè la definizione stato legittimo e di tolleranza mi prenda non consegna la questione generale proprio dell'unità immobiliare e mi va a ricomprendere poi anche l'edificio perché perché l'edificio è composto da unità immobiliare per cui non si può dire hanno mai non fa la verifica dello stato legittimo dell'edificio perché non ci dimentichiamo che c'è una pratica edilizia madre una pratica edilizia 0 che riguarda la costruzione dell'intero edificio e nel momento in cui non sono state rispettate queste cose il comune può tranquillamente sanzionare il mancato rispetto del titolo cioè l'illecito c'è e quindi la verifica dello stato legittimo della verifica di conformità non può essere dire limitata la sola proprietà esclusiva dimenticandosi e poi va fatta sui parametri urbanistici perché appunto va estesa nella più nella sua ampia accezione questa per come la vedo io ma non è la mia visione e basta lo stato legittimo l'ho detto negli altri video non è una novità un'invenzione 2020 è un qualcosa che viene da lontano le sentenze amministrative e anche quelle penali avevano già coniato questo concetto io l'avevo chiamato legittimazione urbanistica va bene d'accordo ma il concetto della verifica dell'edificio nel suo insieme e o delle singole età immobiliare è un qualcosa che è già conosciuta per chi opera nel settore delle due dirigenze delle verifiche allora c'è un commento di daniele che mi piacerebbe leggerlo ma se l'articolo 49 del testo unico fa decadere le distrazioni fiscali e dovrò sanare sia la facciata sia all'interno per poter fare una sanatoria fatta bene è esatto mancato rispetto della dello stato legittimo espone anche a una possibile azione di revoca e recupero delle dei bonus perché articoli 49 50 testo unico ok ma non dimentichiamo che c'è il dm 4198 l'articolo 4 che anche lui ha un meccanismo simile in caso di difforbità e illecite che vengono compiuti con la pratica delizia senza stare a distinguere se è un permesso no tutte uno staff a distinzione per cui forse va tenuto più d'occhio il dm 41 ok allora questo è un po il quadro quadro d'insieme consigli suggerimenti i miei suggerimenti che mi sento di condividere se volete fare se fate il bonus facciate ok per default le verifiche delle parti a comune sono coinvolte bene quelle si fanno mi sembra al minimo da da dover fare un altro consiglio mi permetto di dire se avete la possibilità se se dovete coinvolgere anche aspetti come elementi manufatti che sono privati verande balconi forometrie diciamo finestre porte finestre tutte queste parti che sono intersecate sia nella proprietà condominiale sia anche nella proprietà esclusiva estendete le verifiche anche all'interno delle unità immobiliari perché tanto prenderete farete accesso agli atti delle parti interne delle proprietà delle unità esclusive a quel punto non potete non vedere non potete dire al cliente no vabbè ma chi se ne frega no calma voi dovete fare un report molto preciso molto puntuale in cui diceva da cliente c'è questo tipo di problema sarà il caso di regolarizzarlo o meno perché ci sono potrebbero esserci le rischi da questo punto di vista io ti informo ti faccio un consenso un formato dirigo di procedere in questo modo ecco io consiglio e voglio dare è quella di estendere anche alle parti esclusive interessate da questi tipi di interventi bonus facciate perché potreste correre il rischio da sotto vari punti di vista anche da un punto di vista di commerciabilità perché poi si va a vendere l'immobile voi mettete che oggi fate il bonus facciate fra quattro anni l'immobile viene venduto si è creata una sorta di aspettativa implicita indiretta nel proprietario ai tecniche ha controllato tutto quando si è fatto i bonus facciate credeva che fosse tutto a posto in verità tutta posto non è state tranquilli che il proprietario dell'appartamento avrà qualcosa da biasimarvi e da dirvi e mattei avresti dovuto e allora si diventiamo i più facili bersagli da questo punto di vista da evitare questo sono questi sono i miei consigli liberi di di sentire ecco credo di poter darvi i migliori riferimenti e migliori suggerimenti più cautelativi e prudenti bene il miglior ringraziamento che potete dare per questo video ecco vi chiederei di condividere questo video sulle varie piattaforme social sui vari siti ma anche sui vari whatsapp telegram sì insomma ci si scambia commenti e mi interessano soprattutto commenti dei tecnici perché voglio sapere come anzi fatemi sapere proprio come farete voi come vi comporterete altra cosa e vi segnalo tra l'altro regione toscana ha già aggiornato la modulistica unificata per le prate edilizie dove ha recepito anche alcuni aspetti relativi a stato legittimo eccetera quindi anche anche la normativa locale ha già iniziato a ad adattarsi da questo punto di vista bene dai siamo alla copertina finale siamo ai saluti vi dico ci vedremo ne parleremo di nei prossimi articoli di agibilità quando serve nelle compravendite parleremo del calcolo dei massimali in caso di sisma bonus calcolo dei massimali per le unità anche ramo ecobonus poi seguitemi anche sui vari social dove pubblicherò il palinzesto dei prossimi video dirette e podcast io un podcast su speaker su itunes su iphone in tutti i canali migliori canali podcast mi trovate lì ascoltateli presto 9 9 audio anche lì per il resto ragazzi buon bonus facciate buon 90 per cento fate bravi e siate diligenti perché bisogna stare veramente attentini alla questione ok dai siamo a saluti di nuovo ultimi ciao a tutti e alle prossime dirette da carlo pagliai